a Torino. Intanto ieri associazioni piemontesi, francesi e spagnole si sono confrontate sulle rispettive pratiche per l'accoglienza e l'integrazione in servizio di ieri Garuti. Come valorizzare le competenze professionali dei migranti nel loro inserimento lavorativo e come gestire l'accoglienza oltre l'emergenza, sia per gli alloggi sia per le cure sanitarie in particolare di mamme e bambini. Su questi temi è stato avviato un confronto tra associazioni identi del Piemonte, della Catalogna e della Regione di Lione. Il progetto, partito a maggio 2017, si concluderà nel prossimo mese di giugno. La Regione Piemonte è partner di questo progetto proprio perché crede che in un confronto di buone pratiche, su temi molto concreti che possono essere l'inserimento lavorativo, l'abitazione e la sanità, si possono costruire politiche di inclusione. Porteremo degli operatori piemontesi a visitare nel concreto le pratiche che vengono svolte in Francia e in Spagna su queste tematiche per permettere proprio che nascano delle collaborazioni magari a livello internazionale. Identificare le pratiche migliori per i migranti può offrire spunti applicabili a tutta la popolazione. Nello straniero ritroviamo difficoltà e ostacoli che fondamentalmente anche l'italiano sperimenta. Essere efficaci per gli stranieri significa analogamente essere efficaci con i cittadini di origine italiana.